Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Ruby, sono qui per parlarvi della questione di Oscar Volt che mi ha bannato dalla sua pagina per un commento sulla carne. Siccome ho fatto un post, ma il post dice tutto e niente, scusate la luce che fa schifo ma ho veramente poco tempo per registrare un brutto periodo, cercherò di ritornare più attivo. Praticamente che cosa è successo? Allora partiamo dalle origini, allora io ho sempre detto che la Oscar Volt sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda il panorama fantasy che era sempre stato snobbato. 10, 11, 12 anni fa tutti i titoli che voi avete in libreria e che trovate in libreria ai miei tempi dove fa molto nonno anni però insomma quando io ero giovane non c'erano. Cioè il fantasy prima veniva snobbato e che cosa c'era in libreria? C'era o Shadow Hunter o la Gear o vabbè Tolkien ovviamente o non mi ricordo forse la trilogia delle gemme, sì la trilogia delle gemme. C'era poca roba onestamente. Nel mezzo del cammin di nostra vita ci siamo resi conto che il fantasy fa vendere e comunque è un genere che non deve essere snobbato e quindi finalmente sono stati portati in Italia tanti titoli tipo Akotar, Il Trono di Ghiaccio, titoli che insomma erano anche a rischio perché Il Trono di Ghiaccio era stata fatta una petizione perché la volevano anche interrompere. Quindi io sono stato contento di aver letto tutti questi titoli anche se alcuni non mi sono piaciuti benissimo. Ovviamente i social sono veramente molto importanti per tantissimi motivi sia per interagire con le persone sia anche per far conoscere insomma ai lettori quello che uscirà, che cosa uscirà e quant'altro. Il punto è che la Oscar Vault ha sempre avuto dei comportamenti percolativi nei confronti delle persone. C'è stato un episodio, anzi due episodi che sono stati veramente molto agghiaccianti. Allora il primo episodio è stato quello di perculare Sarah J. Maas. Sarah J. Maas non scrive capolavori, lo sappiamo tutti, scrive cose di intrattenimento. Io la leggo perché mi fa spegnere il cervello, ok? Quindi io sono consapevole che Sarah J. Maas non scrive capolavori. Sarah J. Maas è stata perculata da questa casa editrice per ben tre volte. Sono stati fatti tre post dove praticamente c'erano delle fatine, tipo quelle lì che voi vedete molto spesso nelle bancarelle. E sotto il post c'era scritto queste saranno le nuove copertine di Sarah J. Maas. Una volta va bene, mi faccio una risata. Due volte rido a mezza bocca. La terza volta io mi sento anche offeso perché dico porca di quella miseria. Ma perché è solo Sarah J. Maas? Cioè io non ho mai visto un post perculativo nei confronti di Christophe, nei confronti di Vittoria Schwab. Cioè non lo so. Ok anche loro ti fanno vendere. Però o tu in questo senso perculativo lo fai nei confronti di tutti o non lo fai nei confronti di nessuno. Farlo solo ed esclusivamente nei confronti di Sarah J. Maas che comunque fa vendere anche se non scrive capolavori è una cosa veramente allucinante. Ti poteva fare un solo post, ridevamo tutti, ci facevamo due risate e basta. Il troppo storpia. Che cosa è successo? Successivamente è uscito un nuovo post del tesorato. Per chi non lo sapesse il tesorato era uscito qualche tempo fa, non mi ricordo quando, dove praticamente era un volume unico. Questa copia è stata fallata che poi anche lì, ma prima di mandare qualcosa sul mercato non vi rendete conto che erano fallate? Perché, cioè capisco una o due copie, ma lì era proprio una partita fallata. Cioè io veramente, boh, non capisco questa cosa. Come è successo anche con Mismore. E giustamente una ragazza ha chiesto. Signora Oscar, come mai prima avete pubblicato il tomone, adesso lo pubblicate in volumi singoli dove io vado a spendere, perché ricordiamoci tutti che ci sono ancora persone che i libri se li comprano, chiuso a parentesi. Perché avete fatto questa scelta? Cioè io vado a spendere con questi volumi singoli quasi il doppio rispetto al volume unico. Cosa hanno risposto e perché è così? No, hanno risposto in maniera molto percolativa e lì è scoppiato il casino. Ovviamente, no, quando tu ti rendi conto di aver fatto una grandissima cazzata, che cosa fai? Chiedi scusa, no? Perché è scoppiato poi il casino. Ci sono anche delle persone che hanno accusato altre persone di ricevere libri a gratis che poi per notta non è le librerie, ma quella è un'altra storia. Sta di fatto che è successo un casino. Cioè lei voleva solamente delle risposte, ok, che magari tu non le vai a rispondere come commento, ma fai un post successivamente dove dici C'è stato chiesto come mai c'è stata questa scelta piuttosto che un'altra. Adesso vi spieghiamo il motivo. Era difficile fare questa cosa? Invece no. Loro hanno risposto in maniera percolativa, in maniera da sfottò. E questa è una cosa che fanno sempre, quelle volte che rispondono. E che cosa è successo? È successo che dopo il casino loro hanno chiesto scusa con la coda tra le gambe dicendo no, guardate, noi, non dipende da noi queste determinate scelte editoriali, ci dispiace, perché, per come. Come scusatemi, ma voi prima dovete fare la cazzata e poi chiedere scusa? Cioè non era semplicemente, cioè non si poteva semplicemente dare le giuste spiegazioni nel momento in cui tu annunci che il tesorato, che poi a me non mi interessa, tra parentesi, viene pubblicato singolarmente al posto che da Tomone? Perché era molto semplice questa cosa, visto che tante persone hanno chiesto questa cosa magari anche in privato, tu fai un post dove dici, signori, la scelta è stata fatta così, quindi noi pubblicheremo il tesorato in vari volumi, perché è una cosa che non dipende da noi. Punto, stop. C'era bisogno di fare tutto sto casino e la ragazza, a quanto mi hanno detto voci, perché io so sempre tutto, signori, voi dovete capire una cosa. Zarruby sa sempre tutto, anche quello che non dovrebbe sapere. Ok, io sono una sorta di confessore che la ragazza è stata bloccata. Certo, perché se tu non vai a leccare il culo, allora a dire quanto sono belli, quanto sono bravi, quanto sono interessanti, oh mio Dio, oh che bello, oh perché, nella speranza che qualcuno venga notato e riceve i pacconi a gratis, ma la gente non ha ancora capito che i pacconi continueranno a riceverli chi li ha sempre ricevuti. E magari gli dà il contentino, come è stato fatto con il calendario dell'avvento, dove praticamente hanno dato il PDF a gratis, ma è un contentino. Perché chissà quante volte le persone hanno mandato in direct delle richieste di collaborazione e quant'altro che ne si sono rotti le palle e secondo me è perché stavano perdendo un po' la faccia, onestamente. Quindi hanno tentato di fare, di salvare il salvabile. Quindi se tu non rientri in quella categoria di persone, dove tu non vai a commentare, dove tu non vai a delogiare, per non parlare poi se rientri in una ristretta nicchia di persone, ma lasciamo perdere, viene automaticamente bannato. E io dico lì ci poteva anche essere un senso che è sbagliato, no? Perché la politica è se tu non mi lecchi il culo, io ti caccio. E se nel momento in cui fai polemica, che poi la polemica l'hanno fatta scaturire loro, perché ripeto, nel momento in cui io ti do, ti dico come mai succede questo e succede quello e tu mi rispondi a sfottò, è logico che poi io mi incazzo. Perché voglio dire, se io ti spendo anche dei soldi, non mi dovessi trattare di merda, bene? Quindi, quando succedono le polemiche che poi le fanno scaturire loro, loro ti bannano e diciamo che nella sua illogicità e nel suo schifo il discorso ha senso. Bene, che cosa è successo a me? Io sotto i post dell'Oscar Vault non commento quasi mai, perché la roba che esce e che è uscita quest'anno mi è interessata poco e niente. Quindi io sotto i commenti non vado a fare il leccaculo perché non me ne frega niente di collaborare con le case editrici, di ricevere roba che magari neanche mi interessa. È una cosa mia, ok? Io dico solamente che una persona che collabora con le case editrici deve essere una persona trasparente e onesta nei confronti dei follower, ok? Allora, se io ricevo un libro a gratis, no? Non lo faccio vedere nelle stories di Instagram tre minuti, poi lo metto lì e fa la polvere, ok? Io ce l'ho ancora qui. Il fatto che il terzo libro di Manno Sanderson è stato mandato a della gente quasi quattro anni fa e è sempre lì che prende polvere, ok? Uno non pretende che il giorno dell'uscita tu fai uscire una recensione, un video o quant'altro. Ma almeno di leggere quel libro, se non subito, tra qualche tempo, ok? No, invece qual è la dinamica? La dinamica è mostrare il libro nelle cose tre secondi, il libro tre secondi, ringraziare e poi andarlo a vendere. Perché a me è capitato di andare al libraccio e di vedere praticamente la serie della Maniscalco, che il quarto doveva ancora uscire, intera nel reparto usato. Ora, chi è il cretino che si va a spendere quasi 80 euro circa di libri per poi non leggerli neanche e andarli a vendere? Io dico, tu hai un seguito, tu collabori con le case editrici, il libro te lo leggi, fai la recensione e poi lo puoi vendere o non lo puoi vendere. Perché io non sto andando a sindacare il fatto che questo libro è stato venduto, ma che questo libro è stato venduto senza neanche essere aperto. Allora, cosa collabori a fare con le case editrici? Tu devi collaborare in maniera molto seria, perché non è che stai facendo un torto a me, stai facendo un torto alle persone che ti seguono. Che giustamente dice, vabbè, ma sta recensione quando viene? Che magari stanno anche rosicando, perché diciamocelo tranquillamente, che non hanno ricevuto il libro gratis, ok? E a me questa cosa mi fa ampiamente schifo, vi devo dire la verità. Perché se le persone hanno questa fortuna, ti prendono il libro, se lo leggono, anche se non è un libro che hanno richiesto e nel momento in cui tu ricevi un libro che non hai richiesto, dici alla case editrice Bella gente, la prossima volta che esce un libro, per favore, mi potete mandare una lista, mi potete mandare qualcosa e così concordiamo, piuttosto che mandare tutto a tutti. Perché anche lì il criterio sul come si collabora con le case editrici o come le case editrici inviano le cose, io lo trovo veramente allucinante. Anche perché ho sentito di indirizzi che si passano a trovare i case editrici, che poi l'indirizzo non è un dato personale, cioè non è un dato sensibile, cioè non si potrebbe neanche dare così alla chiunque. Persone che non leggono fantasy, ricevere fantasy che poi non leggeranno, perché giustamente nessuno legge niente, e persone che hanno regalato ai tempi la saga di Nevernight, perché gli è stata mandata gratuitamente, ma non leggono. Cioè bisognerebbe anche avere un criterio, non è che uno si può mandare tutto a tutti, non è che io collaboro con una case editrice e alla fine della fiera tutto quello che pubblica mi interessa. C'è cose che mi interessano e altre cose no. Comunque a prescindere da questo, io non commento mai, perché ripeto a me non interessa andare lì a fare il lecchino, a dire quanto siete belli, quanto siete bravi, gli unici commenti che io ho scritto, che me li ricordo, sono stati sotto il post di Mexican Gothic, dove praticamente ho scritto è meraviglioso, te tenete a mente questo, e ho risposto ad una ragazza, la Greta, che saluto, dove praticamente lei diceva sotto un post di un libro che doveva uscire, spero che venga tradotto decentemente, e io ho risposto no, quella che viene tradotta con i piedi è la mass. Perché effettivamente delle persone si sono lamentate con me, ma non con me, sai, parlando, mi hanno detto guarda che la traduzione sia del drago, che costa 30-34 euro, sia dei volumi precedenti, fa abbastanza pena. Che hanno stravolto addirittura il senso della frase, il senso della pagina a volte. Io questo discorso non lo posso fare perché non leggendo in lingua, e non avendo una padronanza di linguaggio tale, cioè di essere madrelingua, o comunque di un livello alto, di queste cose io non me ne accorgo sinceramente. Però molte persone che l'hanno letto in lingua, e l'hanno letto anche in italiano, si sono accorte di queste cose. Quella però non è una mancanza di rispetto, quello non ce ne frega niente. Quindi io ho risposto alla Greta, gli ho detto guarda che quale è la massa, ma io ho detto la verità, non è che ho detto chissà che cosa. E poi avevo commentato il post di Dante, dove praticamente io dicevo a Dante che erano delle edizioni veramente oscene, e io ho scritto povero Dante. Benissimo. Loro pubblicano questo post dove io praticamente commento, ho scritto ho voglia di carne, perché il post praticamente diceva che esprime un desiderio. Loro chiedevano il titolo di una graphic novel che dovevano praticamente pubblicare, chiedere consiglio, ci sta anche. Io ho scritto un commento cretino, ma il web è pieno di commenti cretini di Ruby, soprattutto su TikTok e soprattutto quando vede della carne di manzo, ok? Quindi si poteva tranquillamente fare una risata considerando che loro scherzano, perché quando rispondono male a qualcuno, eh ma io stavo scherzando come scherzi tu, scherzo anch'io. Cioè voglio dire, o giochiamo ad armi pari, facciamo un gioco coerente, o se no non c'è storia. Benissimo. Mi arriva un messaggio di risposta dove diceva che praticamente io dovevo stare zitto, che se non avevo nulla da dire non dicevo niente, che il mio commento risultava offensivo e che io dovevo andare presso una pagina, non mi ricordo di chi sinceramente, per imparare l'educazione, ma una roba del genere. Cioè il commento, poi da me è stato rimosso e io ho ribattuto dicendo che io il commento l'avevo rimosso, però che tu mi vieni a fare la morale a me, quando tu sei prima ad avere dei commenti rispettosi nei confronti di gente che viene a spenderti dei soldi, quindi è un consumatore, io lo trovo veramente ridicolo, ok? Ed è finita lì. Al che io chiedo in privato e gli ho detto, ascoltate, se il commento lo reputavate non in linea con le vostre linee guida, che poi io vorrei tanto sapere questa educazione, perché ripeto, loro sono i primi che sfottano la gente, ma lasciamo perdere, voi potevate cancellare il mio commento. Al che la tizia, tizio, non so chi è, non so chi gestisce questa pagina, non so se è sempre la stessa persona o viene dato in mano ad altre persone, non lo so sinceramente, manco lo voglio sapere, sta di fatto che io scrivo questo, tutti gli screenshot, non vi preoccupate, dove io dico praticamente se reputevate appunto il mio commento non idoneo a fare questa cosa, potevate tranquillamente cancellarlo. Se io sono il proprietario di una pagina web, di un canale YouTube, di un profilo TikTok, o di quello che volete voi, se io reputo che il commento non mi piace, perché è il solito commento deficiente, che non mi porta a niente, io lo cancello, non c'è nulla di male, io sono il proprietario, posso fare quello che vogliono, posso fare quello che voglio. Al che lei mi risponde dicendo, eh no, ma perché tu hai dei comportamenti da frecciatine, tu commenti sempre i nostri post con delle frecciatine, con delle cose, hai un comportamento irrispettoso, quando io sotto i post ho commentato quello che vi ho detto e quando io sotto i loro post non commento quasi mai, bene? Quindi, tu mi vieni ad accusare di che cosa? Di che cosa mi vieni ad accusare? E io ho risposto, se è una cosa sul personale e vi sto sulle palle, basta dirlo. Cioè, rubi, ci stai sulle palle, basta, nella vita non si può piacere a tutti, sei consapevole di questa cosa, appunto e basta. Cioè, a me uno se ne fa una ragione, stop. Cioè, almeno trasparenza, almeno essere chiari, onesti e sinceri. No, non è un fatto personale che tu dovresti smettere di avere questo comportamento, perché ti vorremmo nella nostra community, ma tu devi smettere di avere questi comportamenti, ovvero commentare sistematicamente sotto i loro post con delle frecciatine. Ma non è vero, non è vero, perché, ripeto, io, sotto i loro post, non commento perché a me di leccare il culo, a questa gente non mi interessa, non mi interessa, ok? Chiaro il concetto? Bene. Al che io ho risposto, rigirate la frittata come volete voi, perché tu mi accusi di qualcosa che fai tu, vuol dire che innanzitutto fai schifo come persona, che innanzitutto non sai neanche chi io sia, e secondaria cosa, tu ti sei basata solamente su un commento per tirar fuori tutto. Dopo questo c'è stato il ban, cioè io sono stato bannato dalla pagina di Oscar Volt per un commento sulla carne, cioè ditemi voi se io me la sono andata a cercare, perché tutte le volte che succede qualcosa a Rubi se l'è andata a cercare, se l'è meritato, c'è l'omertà, no? Perché io non sono amico di nessuno, non vado a leccare il culo a nessuno, e manco mi interessa, onestamente. Allora, traete per favore voi le conclusioni. Se io effettivamente devo essere bannato da una pagina, essere accusato di cose che io non ho fatto, perché io non commento sistematicamente sotto il loro posto per scrivere che cosa, frecciatine a chi e che cosa, quando sono loro i primi ad avere il sedere sporco e per culare la gente, che questo è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti. Quindi voi mi dovete dire per favore nei commenti se è possibile una cosa del genere. Se io, che sono un consumatore, che spendo dei soldi per loro e i libri costano quello che costano, ok? Ok? Hanno un prezzo. Io quel libro al mese che mi posso comprare sono sempre 20 euro che io ti sto dando. E questo è il trattamento? Perché a me la cosa che mi ha fatto più incazzare sono queste accuse che sono state mosse nei miei confronti, che sono delle, cioè delle accuse che non stanno né in cielo né in terra. Ora, io non so se questa persona è lì da poco, chi gestisce questa pagina, se cambiano continuamente. Io questo non lo so sinceramente. Non so se è sempre la stessa persona da anni, se le cambiano, se non le cambiano. Sta di fatto che tu non puoi venire a bannare per un commento di merda sulla carne e per che cosa? Per che cosa? Perché tu hai questi comportamenti e quindi va bene. Però gli altri quando scherzano devono essere tacciati di brutta gente, di fare di qua e di là. Ma gente, ma sapete che vi dico? Che nella vita per avere successo bisogna praticare il leccaculismo, ok? Voi dovete leccare il culo alla gente e così avrete successo. Se siete delle persone controverse, delle persone che dicono la verità e delle persone sincere perché io credo di non aver mai preso in giro nessuno quando faccio le mie recensioni e io non ho mai collaborato con le case editrici e io non ho mai chiesto soldi a nessuno come è capitato, ma quella è un'altra storia. Nella vita non avrete mai successo, signori. Ricordatevi sempre questo, nella vita vanno avanti quelli che si sanno vendere, quelli che fanno i piangini, quelli che vanno a leccare il culo. Perché nel momento in cui voi non leccate il culo a questa gente, ok, o a chi che sia, nella vita voi non avrete mai il minimo successo. Io sono veramente sconcertato e schifato da questa cosa. Poi pubblicherò un post dove metterò tutti gli screen perché ovviamente, insomma, non ho voglia di montarlo, ve lo prendete così cotto e mangiato. Io sono scioccato, io sono allucinato, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Questo è trattare il consumatore, cioè uno che ti va a spendere dei soldi e magari fa anche dei sacrifici. Ma io questo non ve lo dico perché sono cazzi miei, cioè ma io non ho più parole gente, commentate per favore fatemi sapere voi, perché io veramente non ho più parole per descrivere questo schifo. Cioè questa politica dove una persona deve essere bannata, una persona deve essere bannata per un commento sulla carne. Bene, io sono veramente schifato, voi continuate, continuate a leccare perché è giusto che sia così nella vita, continuate a sperare che un giorno vi arrivano i pacconi, eccetera, eccetera. Niente, io vi saluto e fatemi sapere voi, traete voi le conclusioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!